Musica Morto di Covid da 70 anni, il medico anestesista Giuseppe Sessa, conosciuto da tutti come Peppe. Negli scorsi giorni si era marato di coronavirus che alla fine gli è stato fatale. Il dottor Sessa lavorava presso la clinica Villa dei Fiori ad Acerra. Il storico medico della struttura è stato anche il decano di tutti gli anestesisti di Villa dei Fiori, oltre che quasi un amico di famiglia di tutti che lo hanno ricordato affettuosamente nelle ore in cui la notizia del suo decesso è diventata pubblica. Si tratta dell'ennesimo medico morto in prima linea contro il Covid. Grazie